Pescara oggi si proietta nel mondo con questa immagine meravigliosa. Invito tutti quanti, i cittadini e non, a visitare all'interno del sito del comune la pagina Pescara 360 gradi Experience, perché tutti quanti potranno entrare in un mondo virtuale e vedranno una Pescara che non hanno mai visto, bellissima. Accanto a questa operazione, che quindi è una grande operazione di pubblicità e di marketing territoriale, si abbina anche a un'operazione commerciale. I nostri commercianti potranno far vedere le loro vetrine in tutto il mondo, non solo, si potrà entrare nei negozi che sono convenzionati con shopping e live e si potrà addirittura acquistare merce. Quindi davvero un prodotto innovativo, forse siamo gli unici in Italia ad aver creato un prodotto del genere.